e saluti a tutti di nuovo benvenuti al secondo video di questa serie ci siamo lasciati l'ultimo video con questi due argomenti fantastici che sono l'economia e la giurisprudenza che fanno da perno a tutta la società in cui viviamo oggi in questo video affronteremo quello che è la giurisprudenza la giurisprudenza è intrinseca a tutte le azioni della popolazione del popolo di un dato territorio ogni cosa è regolamentata questo perché qualcuno direbbe altrimenti c'è il disordine no in realtà no in realtà il disordine c'è già perché quelle regole sono scritte per creare il disordine sono scritte per tenere l'essere umano schiavo e dominato su molti fronti e di esempi ce ne sono tanti ma li faremo in seguito il punto fondamentale è capire chi sei tu capire in cosa ti riconosci perché se io ti chiedo chi sei è possibile che tu mi risponda io sono mario rossi ma io non ti ho chiesto il tuo nome o il nome con il quale ti identifichi io ti ho chiesto chi sei che è ben diversa domanda come alla domanda di cosa ti occupi nella vita potresti dirmi che sei un impiegato ma io non ti ho chiesto chi sei io ti ho chiesto di cosa ti occupi e tu però ti sei identificato con quello che fai ecco il punto è questo il punto è che chi sei tu lo devi capire bisogna capirlo e se non ci sei già arrivato o se sei ancora la ricerca benvenga spero che tutti noi ci siamo posti questa domanda chi prima chi dopo perché è il quesito esistenziale dell'essere umano il punto dov'è il punto è che ci hanno insegnato a scuola due verbi vi ricordate essere e avere il verbo essere rappresenta lo spirito la parte spirituale il verbo avere rappresenta la parte materiale sempre due opposti però cosa è successo è successo che ci hanno convinto e ci hanno insegnato che il verbo essere lo possiamo utilizzare per identificarci in qualcosa che non siamo tant'è che tu non sei Mario Rossi tu non sei il lavoro che svolgi tu non sei la filosofia religiosa o il credo che professi o che comunque segui tu sei altra cosa perché identificare ha un significato ben preciso tant'è che identificare vuol dire anzi identico scusate identificare vuol dire essere uguale a quindi essere la medesima cosa per fare un esempio ci si chiede qualcuno una forza dell'ordine ci chiede di identificarci e ci chiede il documento ecco che se noi forgiamo quel documento però ci poniamo la domanda ma io non sono identico a quel documento perché? perché quel documento è un pezzo di carta quindi tecnicamente nella materia non siamo quel nome e cognome perché quel nome e cognome in realtà è ben altra cosa ci è stato assegnato all'atto di nascita quando è stato redatto l'atto di nascita perché nostro padre è andato in comune all'ufficio anagrafe dove ha dichiarato che un bambino è venuto è nato quel lato di nascita diviene un titolo di stato che viene scambiato nella borsa mondiale questo è un dato di fatto quel titolo di stato prende del valore durante il tempo ma a chi appartiene quel titolo di stato? è ovvio che appartiene a chi lo emette come la banconota la banconota appartiene a chi la emette l'euro appartiene alla banca centrale europea tant'è che se guardate nella stringa lungo il bordo della banconota c'è scritto BCE con la C cerchiata copyright cioè non ci appartiene ce l'abbiamo in prestito per tornare a quel certificato di nascita a quel titolo di stato noi come esseri umani lo rappresentiamo ci identifichiamo lì però chi ne beneficia a livello economico è lo stato italiano che stato in realtà non è perché è una società per azioni oltretutto pignorata nel tardo 2012 questo è la base di chi siamo o chi crediamo di essere o con cosa ci identifichiamo potete fare le ricerche che volete anzi ve lo consiglio di fare le ricerche che volete a riguardo potete cercare sovranità individuale ma perché questo? perché potete credere o non credere ma non è un fatto di credere questo è nero su bianco è scritto nero su bianco che è così quindi è legge e nessuno può contraddirla perché appunto perché è scritta nero su bianco il punto è che il diritto va applicato e se non lo si conosce non lo si applica la legge infatti non ammette ignoranza adesso il punto qual è? il punto è che dal momento che ci riconosciamo in un pezzo di carta in un nome e un cognome non sappiamo chi siamo e siamo succubi schiavi e dominati da coloro che detengono quel nome e cognome cioè la Repubblica Italiana in questo caso la società per azioni Italy Republic of iscritta alla secca americana dal 1984 di conseguenza subiremo tutte le vessazioni possibili e immaginabili tutte le tasse e via dicendo ma mi fermo qua perché il prossimo video parleremo proprio delle vessazioni che subite e parlo subite al voi perché io non le subisco più perlomeno non è la vostra forma nel prossimo video parleremo di proprietà privata e capiremo meglio perché voi pagate le tasse e perché pagate le tasse quindi vi lascio con questa riflessione e vi metto un link in descrizione per poter potervi informare meglio riguardo tutto quello che vi sto dicendo in questa serie di video ovviamente se avete domande siete liberi di porle e potete anche ovviamente condividere questo video come meglio credete intanto vi ringrazio e vi auguro comunque ogni bene e una buonissima riflessione a tutti grazie 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 grazie